Ciao a tutti, oggi vi porto con me per un giretto alla Mondadori. C'erano davvero tantissime offerte, però non mi ispirava nessun libro in particolare. Ho visto la nuova uscita di Jojo Moyes, La mia vita nella tua sembra molto interessante. Mia nipote invece ha appreso il libro Caraval, l'ispira particolarmente la trilogia, magari prima o poi la prenderà. Felicia Kisley, sempre apprezzata. Ho visto questo qui interessante, Billionaire Trilogy, Fuocomiele e Passione, un romanzo erotico. Sembra interessante, però alla fine non l'ho acquistato. Ho fatto un altro giretto tra i miei romanzi rosa, i thriller, e questo qui mi ha colpita sotto le stelle di Parigi di Cassandra Rocca. Un rosa ambientato a Parigi, nel mondo della danza, molto interessante. Voi che cosa state leggendo? Lasciatemi un commentino. Ciao! Grazie a tutti.